C'è tanta voglia di ripartire. Tenere i parrucchieri fermi per tutto questo tempo senza maneggiare capelli è veramente penalizzante. Kit con guanti, mascherine e kimono monouso sono soltanto alcune delle tante idee messe in atto dagli acconciatori di Follonica per riaprire in sicurezza le proprie attività. Nella città del Golfo la locale associazione parrucchieri che riunisce gran parte dei professionisti del settore ha deciso di utilizzare un protocollo unico per superare un momento tutt'altro che facile. Pronte a ripartire con le normative anche se ancora sulla carta non abbiamo niente però più che pronti anche più restrittivi. Diciamo per questo è nato questo progetto proprio anticipare le cose anche se erano restrittive e questo ti proteggiamo noi tutti i parrucchieri dell'associazione parrucchieri Follonica avranno il compito di proteggere i clienti. I parrucchieri come tutti i professionisti che lavorano nel mondo dell'estetica sono una delle categorie più segnate dalla pandemia. Le loro attività sono state le prime a chiudere e saranno tra le ultime a riaprire proprio perché il contatto con il cliente non può essere evitato. Siamo organizzati bene guanti, mascherina, chimoni all'entrata, gel igienizzanti, spray per i bancomat, tutto il quale sarà sanificato prima di rincominciare, l'aria condizionata sarà sanificata e saremo pronti.